prima curva per l'atleta Crosara che chiude al comando batteria 27 e Panther Boys, Morello al comando viene superato all'esterno da un atleta del BMX, Creazzo sono in tre, Negro, Zorna e Lavarra insieme a Morello dei Panther Boys e piccoli del team BMX Verona, doppietta del team BMX, Creazzo per questa batteria numero 27 della categoria G2 poi in terza posizione l'atleta dei Panther Boys, Nicolo Morello e piccoli del team BMX Verona in quarta posizione ma sono sull'ultima linea in questo momento e c'è una doppietta del Creazzo batteria numero 28 con Pelizza, Giacopuzzi, Bona, Gasparella